Un saluto a tutti. In questo video, che sarà solo la prima parte in realtà, cercherò di spiegarvi cosa c'è di vero nella cosiddetta teoria della Terra Piatta. Partiamo dal presupposto che non sostengo questa teoria, però dovuto ammettere alcuni dei presupposti di base non sono così sbagliati e cercherò anche di farvi capire il perché. Io sono rimasto infatti sorpreso da certi presupposti da cui partono, non da delle tesi a cui sostengono, non da delle conclusioni a cui pervengono, ma dai loro presupposti. Ad esempio, primo punto, esecchettare effettivamente una teoria come complottista, benché lo sia per davvero, non equivale a dimostrare che essa sia sbagliata. Sarebbe un'argomentazione a Dominem. Io ho già fatto dei video sulle argomentazioni a Dominem. Vi conviene andare a vedere, altrimenti cercare di ottenere su Google. Il scetticesimo metodico, secondo punto, e il dubbio metodico cartesiano, sono due ottimi punti di partenza. Bisogna sempre dubitare, non fidarsi mai di nessuno. Ognuno cosa potrebbe essere falsa, come in Matrix, o anche peggio. Il problema però è come poi orientarsi per indagare sulla realtà e rispondere alle domande, cosa in cui secondo me cartesio è sempre affalito. Ma questa è un'altra storia. Cioè sulla parte distruttiva, che in realtà è più facile, diciamo che siamo d'accordo. Il problema è dove arrivare. Cioè come cercare di rispondere alle domande, come argomentare e via discorrendo. Questo però è un altro argomento. Punto terzo. Se a scuola ci avessero insegnato che la Terra è a forma di melanzana, noi oggi crederemmo che la Terra è a forma di melanzana. Ma anche se ci avessero detto che è a forma di ippopotamo, noi oggi crederemmo che la Terra è a forma di ippopotamo. Qualunque tentativo di nostra gradere sferica, avrebbe detto che è scambiato per complottismo. o l'atteggiamento anticientifico, o cose del genere. Punto quarto. Poche persone sanno argomentare il perché la Terra è a sferica. Gli antichi, prima o tra tutti Aristotele, da quello che mi risulta, hanno dovuto cercare delle prove del perché la Terra è a sferica. Ma questo ne parleremo un'altra volta. Magari, se ne ho tempo e energia. Molte più semplici persone hanno dovuto, effettivamente, per cercare di dimostrare la Terra è a sferica, fare delle ricerche. Cioè, uno può chiedere in quello che vuole. L'importante è tentare almeno di argomentare. Meglio ancora se si argomenta bene, poi ovviamente con le argomentazioni si discute. E lì poi si stabilisce chi ha ragione e chi ha torto. Mi preoccupo di questo, nel nostro discorso su come argomentare, è molto complesso effettivamente. Non è solo degli oggettivi, solo della logica delle regole, che conosco ogni po', bisogna studiarla. Ma poi sul discutere, questo è un altro discorso. Ma uno può credere in quello che vuole, ripeto. Basta che argomenta. Cerchi almeno di provare quello che dice. Per via del dubbio metodico e verboico, è giusto che anche le cose più ovvie scontate vadano messe in discussione. E che poi bisogna cercare di indagare, trovare risposte con la logica. Altrimenti è meglio sospendere il giudizio. Per ultima cosa, quinto punto, è una cosa che ci deve far riflettere. Che la scienza ci insegna molte cose antituive o controintuitive. Prima cosa che si parla di scienze, infatti, di queste cose. Prima cosa dice, dai, la Terra sembra piatta, ma non lo è. La scienza dice il contrario. Oppure la Terra sembra ferma, il sole gira intorno, ma non lo è il contrario. Ecco, questo è un punto, noi, i terapiettisti dicono, vediamo certe cose nei nostri occhi, e ci hanno fatto vedere, quindi piccoli, che è tutto falso. Questo è un discorso molto complesso e delicato. La scienza dice molte cose che sono contrate al senso comune. Contrate come le vediamo. E quindi gli discorsi, effettivamente, sono fin da piccoli, però noi crediamo. che la Terra è sferica, benché noi la vediamo piatta, fin da piccoli ci fanno credere in una cosa completamente opposta a ciò che vediamo, e quindi i terapiettisti dicono, mamma mia, effettivamente, indottinamente è forte, c'è qualcosa di molto forte. Perché si disposte a credere anche in cose, tipo la fisica quantistica, che è molto, molto antintuitiva, la fisica della relatività, tante altre cose, molto complesse, no? a fare i dati, di studio, effettivamente è una cosa che deve far riflettere questa cosa. Ci posso veramente far credere tutto il contrario di tutto. Questo ovviamente è una parola di scienza. Se è vero e falso, si studia e si può discutere, tranquillamente. Però effettivamente, quando si parla di indottrinamento, cioè fin da piccoli, ci facevano anche, come dicevo lì, perché è una forma di ippopotamo, una forma di pene gigante. Noi ci avremmo creduto. E quindi, e quindi, poi scusa che effettivamente la scienza dice cose controintuitive per la semplice ragione, scusate, che noi effettivamente abbiamo una mente limitata. Ciò di cui noi vediamo, crediamo. Può essere falso, ma il discorso è proprio questo, no? Si parla di indottrinamento, si parla di... Cioè, quando conviene ai terrapiattisti, ciò in cui noi crediamo è falso perché deriva da un inganno. Ma quando conviene ai loro, ciò che vediamo è vero. E quindi, questo è proprio il problema. La scienza ci dimostra, proprio per il via del fatto che dice cose controintuitive, molto contane dal modo comune di pensare delle persone. Però perché effettivamente noi, nel nostro modo di pensare, non ci possiamo fidare, nei nostri sensi, non ci possiamo fidare. La Terra è sferica, benché sembra piatta. Il sole non gira intorno alla Terra, ma sembra che gira intorno alla Terra. E tante altre cose. Quindi, il discorso è un po' incoerente da parte loro, però perché effettivamente sul fatto che ci possono far creare tutti i contrari di tutto, io sono d'accordo con loro su questa cosa. Però per il resto, poi ve ne possiamo tranquillamente discutere. Beh, quindi io continuo nella seconda parte a parlare della Terra piatta. Se il video vi è piaciuto, spero che guardiate anche altro. Alla prossima.